Questa è la seconda volta, festeggiando il mio compleanno e diamo i miei ricerchiali. L'ho visto, l'ho visto, è un piacere di vederci qui dopo il Natale e il Capodale. L'anno scorso, il Capodale era all'inizio di quest'anno, dove per la prima volta abbiamo discusso insieme con alcuni di voi dell'esigenza che mi è stata prospettata che si potesse finalmente intervenire su questa strada, la Statale 337.